E questa infatti è la prima domanda che volevo rivolgere a Monica, che in tanti anni di analisi, Monica è un'economista tra l'altro, e di attivismo politico comunque si è trovata di fronte a questi mutamenti, al fatto che sia dal punto di vista del cambiamento appunto degli assetti di comando, sia dal punto di vista della democrazia c'è qualcosa che è avvenuto in questi anni e che dovremmo provare a spiegarci per poter andare avanti con qualsiasi discussione. Grazie, innanzitutto buonasera, grazie di aver condiviso questo ragionamento, io sto benissimo, sono in un posto meraviglioso, di solito sono sempre in posti scomodi che riusciamo a ottenere con fatica, è bello perché così il pensiero sta comodo e lavora meglio. E quindi grazie, grazie a Sherwood, grazie al Bosco che ci accoglie, dove ci sentiamo tutti un po' più capaci di osare, di sfidarli questi ricchi, di togliergli il malloppo e di farci delle cose che ci servono. Questo è l'obiettivo, cioè noi dovremmo finalmente darci l'obiettivo, gli dobbiamo sfilare il malloppo, però per sfilarglielo dobbiamo capire come lo prendono e qual è il malloppo in questo momento, che non è così semplice. E forse questo è il primo ragionamento che ho voglia di condividere con voi. Oggi sono stata, prima di venire qua, a San Casciano, Val di Pesa, e ho fatto un incontro con la FLAI, con il sindacato dei lavoratori del settore agroalimentare. Toscana, terra benedetta dal Signore, grossa crisi, grossa crisi del settore agroalimentare, siete seduti? Cioè, che motivo c'è per una terra fertile che produce cose meravigliose di vivere una crisi del settore agroalimentare? E poi mi raccontano una storia, che è la storia della Bertolli. Io pensavo di aver bevuto troppo, di essere troppo stanca, no? Mi dicono che la Bertolli, a un certo punto, qualche anno fa, quando il nonno Bertolli va in difficoltà, i figli non vogliono fare più l'olio Bertolli, si affida a due spagnoli. Arrivano due spagnoli, sembra una barzelletta, guardate, ma ho voglia veramente di ragionare partendo da questo, perché è quello che siamo noi, ed è quello che è questo imperatore nudo che ci sta governando, e che noi ancora non ci decidiamo a prendere a calci nel sedere. Arrivano questi due spagnoli, come nella migliore delle barzellette che si potrebbe raccontare in un'osteria romana, e dicono Noi facciamo così, noi ci mettiamo le olive spagnole, in Toscana, voi ci mettete il marchio Bertolli, che già vende in America, che è una meraviglia, e andiamo a vendere l'olio in America, che con le olive spagnole costa di meno, e ci guadagniamo un fottio. Recuperando questo valore, quindi facendo questi soldi in più, noi ci quotiamo in borsa, e quindi diventiamo l'economia vera, quella finanziaria, e facciamo diventare economia vera pure voi, che adesso fate solo quella cosa triste di vendere delle bottiglie d'olio, però in tutto il mondo. Questo miracolo fa sì che questa quotazione finanziaria non funziona, perché dopo il lancio del marketing, tenere un marchio in borsa è faticoso, significa reputazione, significa marketing, significa lavorare sulla comunicazione, significa tenere dei flussi di commesse costanti e saperli comunicare, e significa pure che ai consumatori gli deve piacere l'olio toscano fatto con le olive spagnole, che non è proprio la migliore idea che tu possa avere, perché l'americano ce lo freghi, l'italiano insomma, e quindi il marchio comincia chiaramente a scendere, quindi anche il valore di borsa comincia a scendere, ve la faccio in breve, adesso siamo alla terza ristrutturazione di questo grande marchio italiano, che adesso forse andrà un portoghese, io ero ospite della Camera del Lavoro e di una casa del popolo bellissima, ma facciavo e c'era una collina di olivi incantevole, delle migliori olive che un qualsiasi agronomo può sognare nei suoi sogni più erotici, e tu dici, ma perché la Bertolli ha dovuto abbandonare questi produttori e fare un olio che fa schifo per venderne di più e poi licenziare i lavoratori e lasciare a piedi i produttori del suo territorio? Questa è la parabola perfetta di quello che è successo all'economia in questi ultimi 30 anni, 40 anni di economia di mercato, ossia il mercato che era uno spazio è stato popolato da buffoni come questi, che hanno fatto sì che al valore reale delle cose subentrasse un valore proiettivo che è quello del marketing e un valore ancora più proiettivo che è quello della finanza. Ora, un'economia fatta di valore che non si fonda sulla concretezza della validità di quello che sostiene, non è un'economia, è una buffonata e finisce per mangiare se stessa. Quando mangia se stessa e fallisce un'impresa, si porta dietro famiglie, territori e si porta dietro anche il danneggiamento di quell'ambiente che per essere così onnivore, per essere così vorace, chiaramente danneggia. Io non so se siete stati mai a vedere degli oliveti spagnoli. Per fare le olive così grosse, la terra viene sfruttata, gli alberi vengono affaticati. Dopo un po', non è che sono proprio i belli oliveti nostri, a parte che pure noi ne abbiamo vissute negli ultimi anni con la finta xylella, tutta una serie di parapatologie cresciute e alimentate per far politica essenzialmente. Perché ci aiuta questo paradigma nel ragionamento? Perché per spingere un modello di questo tipo c'è bisogno di un'illusione e c'è bisogno di una spogliazione. C'è bisogno innanzitutto della spogliazione da parte di tutti noi della competenza, di capire che l'economia è un pezzo della nostra vita quotidiana. Noi la rinchiudiamo nelle pagine rosa del Sole 24 ore o del sito del Sole e non ce ne occupiamo, l'affidiamo agli esperti, ma l'economia è la scienza della casa etimologicamente, quindi è casa nostra e se non ce ne occupiamo noi qualcun altro lo fa al posto nostro e poi porta l'olive spagnole nell'olio Bertolli per venderle in America e poi finisce. E adesso l'operazione è ancora più importante perché nel mondo c'è chi non ci crede più a questa proiezione e sono grandi blocchi che stanno cercando di interpretarsela a modo loro. il primo, la Cina. La Cina ha smesso di credere da qualche anno nell'economia di mercato e vuole scommettere sul mercato interno. Ha fissato il salario minimo, non stiamo parlando della perla della democrazia, stiamo parlando di un posto complicato, però stiamo parlando di un posto dove per esempio il sindacato, vero, non quello giallo, cresce, cioè la gente si sta organizzando e a questo il governo ha dovuto reagire mettendo dei salari minimi e spesso e volentieri disobbedendo alle regole del mercato globale. Quando il prezzo internazionale dei prodotti si abbassa troppo e fa sì che quindi diventi difficile da gestire per i produttori che sono tutti quanti partecipati per lo più i grandi da capitali pubblici, che fanno i cinesi? I cinesi fanno finta che ci siano delle grandi catastrofi. Dicono le navi non sono potute partire stamattina, dicono nelle nostre regioni interne si sono interrotte le comunicazioni, bloccano le esportazioni, i prezzi internazionali salgono, perché quando tu blocchi le esportazioni nel più grosso mercato globale è chiaramente complicato e quindi i prezzi salgono. Quando i prezzi tornano interessanti la Cina riapre le frontiere. Quando l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la terribile VTO, gli dice scusa Cina non ho capito, lei gli dice ti mando il bollettino meteorologico? Il bollettino meteorologico lo controlla lo Stato e quindi gli manda la stessa interpretazione. E la VTO gli dice ma il Satellite ci dice un'altra cosa? E loro gli dicono vabbè chi è degli stati membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che ci vuole fare causa per questo? E diciamo che tutti sono un po' preoccupati. In questo panorama così diversificato nascono altri grandi blocchi, nasce tutta l'America Latina che sicuramente è molto più capitalista e anche molto più affidata alle multinazionali endemiche della Cina. Cresce però una grande e contraddittoria democrazia come l'India che avendo a che fare con il più grande stock di poveri a livello globale alcuni piccoli problemi li deve risolvere a posto un grosso problema all'Organizzazione Mondiale del Commercio perché vuole gestire bene da sola gli stock alimentari, cioè vuole avere come Stato la possibilità di stoccare riso, grano eccetera e di rimetterlo nel mercato quando i prezzi salgono troppo i poveri escono dal mercato e non possono più comprarsi il riso. Cosa che ha paralizzato i negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio da due anni perché gli Stati Uniti dicono che non si può autorizzare nessuno ad attuare una politica pubblica per difendere i suoi cittadini più poveri perché questo turba il mercato. La governance globale del commercio è bloccata su un problema di povertà. E allora qual è la grande idea? L'idea geniale, l'ideona, che è la stessa idea dell'olio Bertolli. Quella di non sedersi tutti intorno a un tavolo e dire signori questo modello non funziona perché stiamo producendo troppo, stiamo pagando meno le persone che quindi comprano sempre meno e quindi tutto ciò che produciamo troppo non viene venduto e diventa rifiuto e noi questi rifiuti ce li continuiamo a dare in mezzo agli occhi e non sappiamo più dove mandarli. Tra un po' li manderemo ai marziani se li vogliono secondo me ci scatenano una guerra infinita, finalmente conosceremo i marziani quando li cominceremo a mandare i nostri rifiuti. Oppure facciamo una grande operazione di forzatura della governance globale, ossia sediamoci in un tavolino tetto a tetto, Europa e Stati Uniti e proviamo a far sì che le nuove regole sul consumo, sulla produzione, sulla distribuzione sulla finanza ce la vediamo in due, insieme facciamo il 50% del PIB globale e poi entriamo a gambatesa nella governance globale dicendo, look, guardateci, noi abbiamo le regole nuove, si produce così, si distribuisce così, si vende così, si lavora così e si viene pagati così, perché così il commercio riparte. Peccato che questo modellino ha un problema, innanzitutto noi, perché visto che noi siamo a Sherwood permanentemente e non abbiamo proprio voglia di spegnerlo il cervello, questa operazione facile facile l'abbiamo capita e quindi in tutta Europa, ormai anche negli Stati Uniti, molto più di quanto si sperasse, ci siamo organizzati e abbiamo deciso che almeno quest'ultima operazione qui gliela mandiamo per aria e secondo me ce la facciamo se riusciamo in questi ultimi mesi, nei prossimi mesi a intensificare il nostro lavoro di comunicazione e di pressione su questa operazione. E poi c'è un altro punto importante, noi non abbiamo un altro pianeta dove andare al momento, non ce l'abbiamo e non sta sotto l'acqua da un po' di tempo e anche Roma sta sotto l'acqua da un po' di tempo, noi adesso, io non ho personalmente, c'è un sacco di cose da fare, però diciamo in generale il romano sciamava verso Ostia, altre genere, adesso il romano sciama come l'inglese con l'ombrello sotto il braccio, che è una cosa impressionante, sembra che sta alla city di Londra, invece sta a Ostia dove c'è tutta la gente con l'ombrello perché non sa più esattamente che cosa aspettarsi. Noi non abbiamo molto tempo, questo Augusto lo spiegherà anche molto meglio e questo porta molta instabilità, porta instabilità, porta migrazioni, porta gente che scappa da territori che diventano inospitali e allora o noi decidiamo di sederci tutti insieme intorno ai pochi tavolini disponibili, intanto usiamo quelli che ci sono e cominciamo a ragionare insieme su che cosa vogliamo fare nei prossimi dieci anni, magari partendo anche facendo un po' ginnastica, fermando i trattati che intanto ci riabituano a pensare l'economia in un modo più praticone e più a portata soprattutto di mano senza sentirci così impotenti, senza sentirci così nudi davanti a quest'imperatore che invece è più nudo di noi e dobbiamo prendere a calci nel sedere e forse se ci aiutiamo insieme con le diverse competenze, con la nostra capacità e anche con le nostre paure che in questo momento secondo me sono forti, non ci arrendiamo, torniamo a Sherwood, usciamo da Sherwood e prendiamo un imperatore a calci nel sedere. Quello che sembra a me è che siamo pronti per farlo, perché se in Cina c'è un sindacato di persone vere che viene sospinto fuori, ci sono delle foto bellissime dal sindacato giallo di Stato, dalle fabbriche per impedirgli di scioperare e quella gente muore, non è che ci stanno tante persone, finisce in galera e muore o finisce nei campi di riso, secondo me se noi ci parliamo con quelle persone, parliamo con tutte le persone che stanno facendo questo lavoro, come stiamo facendo ormai da molti anni nei movimenti, nei nostri reti eccetera e non ci facciamo prendere anche dalla depressione della povertà del nostro scenario nazionale che sempre un po' ci scoraggia, forse se noi lo facciamo insieme, abbiamo una speranza, la mia speranza si chiama 7 maggio, a Roma eravamo 40.000 persone, eravamo lì per dire al nostro governo che non ci sta bene, un trattato esotico che si chiama TTP, è segreto, cioè 40.000 persone per una roba segreta, io non ci avrei mai creduto, neanche ubriaca, eppure c'erano, ci abbiamo lavorato tanto e c'erano tutti, ce siamo contati, ce l'ha detto la questura, che erano almeno 40.000, quindi ci potremmo stare, evidentemente noi dobbiamo dare una speranza, dobbiamo dare una scintilla al nostro ottimismo e crederci davvero, diamoglielo insieme a questo calcio nel sedere e secondo me cambiamo sul serio questo pianeta prima che finisce male.